Peppe dove? La porta Ah l'ho capito cavolo sta in fondo Ma che cavolo non muore Attenzione maffatto 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 Peppe se entra dalla porta lo prendo io da sopra eh Rotto un vetro Sta dalle... Cioè ragazzi ditemi se sto glitch non è bugato Altati lag lag stai visto altavisto Non so Eccolo Buonissima Buona Peppe Statici tu le scale dai Wow come Sopra e sopra e sopra Peppe Sopra dalle scale Dalle scale Peppe Stai così tu Guardatevi le porte Passi a noi che pensate Ho fatto una grande cosa Peppe grande 25 secondi Arrivanne qua Bella che bella porta Peppe che hai messo Restano 15 secondi Non mi sbaglio C'è anche la trappola C'è filo spinato Tami C'è filo spinato Destro sinistra Destra Mortallissima Bellissima Peppe Buona Peppe Ottima La botola dove... Oh Raga è morto sledge Sledge pure ottimo Raga la finestra aperta C'è C'è blitz Ragazzi c'è uno qua Peppe dietro di te Peppe Non so Ottima La sinistra G c'è per la sinistra poi Dalle scale Dalle scale Dalle scale Uno dalle scale Oh C'ho ferita c'ho ferita c'ho ferita c'è C'è fuori Ah lo so C'è qua Buu Stai bene Peppe Adesso Vabbè sta rotto Un nemico rimasto Un nemico Ultimo uomo per la squadra alleata Oh Shit Da c***o Vabbè Un nemico rimasto Oh Mi rimasto che dimmi la trinta Se mi vanno a stare a scoprire la Vabbè 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 Questa la protagonista. Possiamo seguire il suo cloro per prendere lì. No, non si perde. Oh, che poteggio è venuto. Che poteggio è venuto. Oh, non c'è nessuno Oh, non c'è nessuno Oh, trascendere Ah, non c'è Bacca Ah, c'è nessuno Ah, oh, cazzo, non c'è nessuno Oh, Eni Sta l'ho qua Stando tutto wonderful Shhh, shhh Ricarica! Mi t'ha morto Bella Rimangono quindici secondi Oh, cazzo, cazzo Ultimo nemico rimasto Ottenete il contenitore Mancano cinque secondi Non vai facci desci, non è qua Non c'è nessuno in cucina, beh A destra, a destra, a destra Rimangono quindici secondi Trova Apri questa botola, apri questa botola La botola tra le due porte Cazzola, cazzola Cazzola Ma è questo? Ma roba Cazzola Che culo di merda Mamma mia che kill, che kill che ho fatto Che culo di merda Ma donna mia la ganta Che culo di merda La posizione dell'ostaggio rimane ignota Grazie Scansione 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 bella peppe hai fatto una giocata spettacolare ultimo attaccante rimasto in vita ah eccolo qua eh cazzo ecco qua te l'ho spottato non mi esce spottino si si lo spottavo mettila mettila raffa non vedo la sulla te con io la camera tengo io lo sto prendendo non c'è nessuno di corrico ricordi che si butterà dalla botola non c'è dentro bellissima 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 attenzione il mio obiettivo di interrolo uno sempre più vicino salva ne no 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 salva guai du sei faccio a me oh sei faccio a me spottalo spottalo umi 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 ok ok prendete il contenitore di più rischio la squadra d'attacco ha eliminato i difensori metti ci pottino ah hai ragione non ci ho pensato non ci ho pensato e poi devo dire che faccio a me non parlate mai non parlate mai non parlate mai non parlate ma non parlate mai non parlate mai non parlate mai mi ha senso è stato l'altra nuovo ok si ho detto ha sembrato ma è ferito ferito ma non mi fai fatto salva peppe salva peppe ma non mi fai salva davvero ciao